Moto Days, si comincia! Moto Days, il salone della moto e dello scooter di Roma, ha aperto i battenti oggi in Fiera Roma per la sua settima edizione. Sei padiglioni, traboccanti di novità, pacificamente invasi da un'ondata di appassionati che non si sono lasciati scoraggiare dalla pioggia che si è abbattuta sulla capitale questa mattina. Alla consueta cerimonia di inaugurazione, ospiti d'eccezione il conduttore TV Fabrizio Frizzi e la cantante e atleta paralimpica Annalisa Minetti. Entrambi appassionati delle due ruote motorizzate, hanno tagliato il nastro insieme all'amministratore unico di Fiera Roma, Mauro Mannocchi, e al consigliere di Roma Capitale, Ignazio Cozzoli. L'edizione 2015 è partita e come sempre vi aspettiamo numerosi! Grazie Grazie per la visione!